Ieri sono stati 11.000 partecipanti alla 25esima edizione della Corsa di Mighella, Antonia Mora. Io la faccio da tanti anni, per me significa socializzare, vivere lo sport con gli altri, condividere, faticare un pochino. La Corsa di Mighella è una corsa bellissima, questo è il secondo anno che la faccio. Mi piace correre, passare una domenica diversa. Gli iscritti per questa 10 chilometri sono più di 10.000. È la gara più sentita, la più partecipata e soprattutto l'arrivo allo Stadio Olimpico è la sensazione più bella che uno possa fare al termine di una gara. Cultura, memoria, sport, voglia di stare insieme, il significato profondo di questa gara in ricordo della figura di Miguel Benanzio Sanchez, maratoneta, poeta, desaparecido dal 1978. L'OPSA insieme a tutti i bradivi, noi abbiamo un motto, arriviamo piano ma arriviamo. Siamo in tantissimi e veramente sono orgoglioso e contento di essere qui. I chilometri sono invece solo tre per la Corsa della stra antirazzista. Un momento a cui teniamo molto che mette insieme l'impegno civile e tante realtà del terzo settore, tra cui la WISP di Roma, ma anche scuole e tantissime persone che vogliono dare il proprio contributo e contro il razzismo e tutte le discriminazioni. Grazie.